Continuiamo dell'illustrazione dei dati sulle liste d'attesa per singola area vasta. Presentato il rendiconto del bonus malus sull'azzeramento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie per l'azienda ospedaliera area vasta 1. I primi risultati evidenziano percentuali ottimali per prestazioni brevi dal 98,8% nel mese di luglio a un 97,7% ad agosto a dispetto delle differibili del 98,6%. Secondo il rendiconto anno nel 2017 sono state 54.143 a fronte delle 68.585 del 2018 arrivando a 78.072 nel 2019 di prestazioni dirette erogate. Un risultato importante raggiunto che permette ai cittadini di ottenere le prestazioni delle richieste sanitarie senza ottenere i tempi lunghi di attesa. Nello specifico l'azienda sanitaria ha operato nella strutturazione delle agente suddivise tra primi accessi, accessi successivi e priorità, adozione del percorso della presa in carico per gli specialisti con prescrizione elettronica e prenotazione su agende dedicate, sviluppo di una piattaforma di comunicazione multicanale tra cittadini e CUP e adozione del sistema di gestione delle agende attraverso la lista di garanzia. La percentuale ottenuta delle prestazioni all'interno della propria area vasta è del 91% che si classifica come dato più alto in tutta la regione. È stato grazie a un grande lavoro fatto in questi mesi, ci ha permesso di creare tante opportunità come la presa in carico, come la possibilità di prenotare attraverso l'app piuttosto che il recall. Ci sono tanti strumenti positivi che ci hanno permesso di traguardare questo risultato con un sistema di monitoraggio che abbiamo oggi a disposizione dove seguiamo uno a uno tutte le richieste che vengono fatte sulle liste di attesa che ci permettono di guardare anche il miglioramento. Portare le programmate il prossimo anno da 180 giorni a 120, quindi accorciare i due mesi la risposta sulle programmate e attraverso questo il cittadino, soprattutto quello più anziano, quello che ha più bisogno, può trovare una risposta il più possibile vicino a casa. I dati del malus, ovvero delle prenotazioni effettuate ma disertate dal cittadino, nel periodo dal 30 agosto al 14 settembre risalgono a 588 a livello regionale, a differenza delle 172 persone stimate dai primi risultati nell'area Vasta 1.